Varato il programma per i festeggiamenti della patrona Santa Maria della Speranza Battipaglia è Gigi Finizio il cantante napoletano che si esibirà in piazza Mendola il 3 luglio presentando al pubblico il suo vasto repertorio che ha contribuito a renderlo uno dei cantautori più amati della penisola. Nei giorni scorsi dopo la richiesta di un preventivo da parte del consigliere comunale Elio Vicinanza riguardante il noto cantante Gianni Morandi si è diffusa la notizia che Morandi potesse essere ospite a Battipaglia per la festa della Santa Patrona ma tutto si è concluso solo con la richiesta del preventivo del noto cantante che si esibisce esclusivamente durante il suo tour.